Portopalo, sequestrato in pescheria a 750 kg di tonno rosso non idoneo al consumo umano. Il prodotto ittico era stato sbarcato il giorno precedente e consegnato presso il deposito di una pescheria di Portopalo di Capopassero senza che fosse stata rispettata la normativa relativa agli sbarchi di esemplari di stock ittici oggetto di piani pluriannali di ricostruzione. Nell'ambito dei controlli quotidiani posti in essere dal personale della sezione di polizia marittima della Capitania di Porto di Siracusa e dell'ufficio minore dipendente di Portopalo di Capopassero, con particolare attenzione alle verifiche sulla filiera ittica e sulle procedure di sbarco del tonno rosso, nella giornata di ieri è stata riscontrata all'interno di un furgone isotermico che si trovava dentro il deposito di una pescheria di Portopalo la presenza di 5 esemplari di tonno rosso del peso complessivo di circa 750 kg. A seguito di accertamenti veniva verificato che il prodotto ittico era frutto di una battuta di pesca di un peschereccio che la sera precedente aveva provveduto a sbarcare gli esemplari di tonno rosso nel porto designato di Portopalo di Capopassero in violazione delle disposizioni vigenti sullo sbarco del tonno rosso senza attendere la presenza dell'autorità marittima e senza rispettare gli orari in cui lo sbarco di tale specie ittica è consentito. Individuato il comandante del peschereccio, lo stesso è stato sanzionato per l'osservanza della normativa comunitaria nazionale vigente in merito alle procedure di sbarco e dichiarazione di cattura di stocchi ittici per il quale esiste un piano di ricostituzione pluriannale. All'interno della pescheria inoltre sono state sottoposte a sequestro anche 45 kg di gambero sgusciato e contenuto in vaschette di plastica trasparenti prive di qualsiasi etichettatura e documentazione che ne attestasse la tracciabilità e, conseguentemente, sanzionato il titolare dell'attività commerciale. Sia i cinque esemplari di tonno rosso che il gambero sgusciato, sottoposti a visita organolettica da parte del personale veterinario dell'ASP 8 di Siracusa, distretto di Noto, sono stati dichiarati non idonei al consumo umano e avviati alla distruzione. L'intervento del militare della Capitaneria di Porto di Siracusa ha evitato che un ingente quantitativo di prodotto ittico, rivelatosi non idoneo al consumo umano, finisse sulla tavola di cittadini ignari, scongiorando conseguenze dannose alla salute pubblica.